Grandi manovre per l'attacco del Pescara, benché nelle ultime ore si è sfumato un obiettivo come Matias Suarez. L'attaccante argentino ha deciso di tornare in patria ed ha firmato un contratto triennale con il Belgrano, lasciando così Landerlecht. Ma l'entourage del Delfino non è stato a guardare e sta stringendo per l'attaccante albanese Reimanai. Il giocatore rientra nell'operazione con l'Inter, che ha portato Caprari in nerazzurro dal prossimo anno, e Biraghi in rival adriatico. Il Pescara si è trovato a scegliere per l'attaccante in prestito dall'Inter, tra Puskas e Manai, ed ora la bilancia pende su quest'ultimo. Lo scorso anno Manai ha giocato quattro gare in A con l'Inter, ma soprattutto è stato punto di forza della primavera di vecchi, con cui ha vinto la Coppa Italia. Attaccante classe 97, di grande prospettiva e con una particolare tempra, potrebbe ritrovarsi come capitano il suo connazionale Ledian Memushai, che sarà funzionale al suo eventuale inserimento. Arriverebbe in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Sempre sul fronte attacco, il nome nuovo per il Pescara è particolarmente suggestivo, ed è quello di Giovanni Simeone, figlio del Ciolo Diego. Classe 95, di proprietà del River Plate, ha giocato una buona stagione in prestito al Banfield e potrebbe approdare nel vecchio continente, proprio indossando il biancazzurro. Il presidente Sebastiani però è al lavoro anche per un grande nome. Torna di prepotenza l'ipotesi dell'Italo-Argentino ed ex nazionale azzurro Pablo Daniel Osvaldo. Svincolato da maggio, dopo l'ultima esperienza con il Boca Junior, al centroavanti è stata fatta una proposta annuale da 750 mila euro. Osvaldo chiede più di un milione, si tratta. Altri nomi di rilievo su cui lavorare sono il cileno Maurizio Piniglia, che potrebbe lasciare l'Atalanta, visti i rapporti non idiliaci con il neotecnico Gasperini, e Alessandro Matri, di proprietà del Milan. Se non dovesse rientrare nei piani di Montella, il Delfino potrebbe fare più di un pensierino, lavorando ad una formula che vada a mitigare l'alto ingaggio del giocatore. Domani, intanto, il gioiellino Alessio Di Massimo firmerà il contratto e sarà valutato dal tecnico Massimo Odo in ritiro per capire se tenerlo o girarlo in prestito. Sul fronte difesa restano caldi i nomi di Guglielmo Stendardo dell'Atalanta e Norbert Ghiomber della Roma. A questi nomi si aggiungono altre ipotesi come Rodrigo Eli, del Milan, e l'ex Mobido Diachite, ora svincolato. Infine, oggi, prima giornata a Pescara, per il neoportiere Albano Bizzarri, che nella mattinata ha sostenuto le visite mediche al Centro Universitario di Medicina dello Sport.